In casa Sidigas Avellino si chiude il cerchio con l'arrivo dell'ultimo tassello per il roster. Giannis Blooms sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra e dovrebbe essere impiegato, seppur per pochi minuti, domani sera nel trofeo Vito Lepore, classico appuntamento prestagionale in cui i Lupi affronteranno il basket Agropoli. Nel corso della serata la squadra sarà presentata al pubblico e la società ritirerà ufficialmente la maglia numero 5 appartenuta al compianto Mimmo Bellizzi. Intanto in mattinata a Castel San Pietro la Lega Basket ha presentato il campionato di Serie A 2015-2016 il cui inno sarà il singolo Vola Alto composto dalla velinese Ghemon. All'evento hanno presenziato la D della Scandone Gianandrea De Cesare e coach Pino Sacripanti che prenderà parte anche alla riunione con gli arbitri nel pomeriggio lasciando così per un giorno agli assistenti Oldoine e De Gennaro il compito di dirigere la squadra. Cresce l'attesa nell'ambiente bianco-verde per la prima uscita del Mauro di una Sidigas al lavoro per recuperare condizione fisica e giusto gioco di squadra in una settimana ricca di appuntamenti con il trofeo Vito Lepore in programma giovedì che farà anche da preludio al torneo di Hagen in Germania. I lupi saranno di scena sabato e domenica nella città dell'Arenania settentrionale con i padroni di casa dell'Hagen, Gottingen e Telecom Bonn.